ciao ragazzi oggi vi voglio presentare i miei rulli liberi che ho comprato l'anno scorso da un ragazzo da ciglia a circa 40 euro perché ho i rulli liberi io li preferisco rispetto ai rulli con il fissaggio della ruota posteriore adesso lo apro vi faccio vedere come si monta ecco così si apre l'elastico va messo dentro una fessurina che si trova nel rullo anteriore quello in mezzo come vedete lo metto dentro la fessurina poi si tira si apre così perché io questi rulli io li preferisco i rulli normali adesso metto un attimo in pausa vi faccio vedere come 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 sono fatti allora ragazzi vediamo come sono fatti in dettaglio questi rulli un po datati però fanno sempre il suo lavoro questi sono della marca roto non si vede riesco a mettere a fuoco no vabbè della marca roto come faccio vedere dettaglio questo è la placchetta in alluminio che serve a unire i due tubi per piegarlo e poi metterlo dritto una semplice placchetta in alluminio tutti i due lati ecco questi invece i rulli veri e propri questi arancioni sono dei semplicissimi tubi in pvc che usano da cantiere per gli scarichi diciamo niente di particolare ogni rullo al suo interno due cuscinetti che vanno fissati con questa vita infinita con un bullone alla sua staffa ecco la staffa questa in plastica semplicissima niente di particolare non ecco vedete staffe questo di dietro rullo è libero invece questo qua in mezzo serve visto questa è una specie di fessura che serve a mettere l'elastico questo elastico che serve a far girare alla ruota di dietro e poi tramite l'elastico gira la ruota davanti vedete c'è la fessura pure in questo davanti solo da un lato ce l'hanno il mio è del lato destro però se vuol trovare pure al lato sinistro cosa è un semplice rullo che è facile pure da costruzione magari un giorno farò un video dove costruisco dei rulli vi faccio vedere che non è niente di particolare va bene ragazzi adesso metto in pausa vediamo se riesco a farvi vedere come si pedala allora ragazzi ci provo mi raccomando non dite niente a mia moglie che se mi vede che faccio i rulli in salone ma ammazza ok vedete più utile come se si sta su strada semplicemente solo di ognuna io ho già diciamo una buona l'equilibrio rispetto ai rulli fissi mi trovo bene mi trovo bene perché vi ripeto mi sento libero come se sto su strada per esempio posso alzarmi se te l'hai alzato dici una volta all'altra ti fai si ma così tendo a stare più concentrato e molto più in equilibrio qua si sviluppa molto l'equilibrio un po' a casa poi l'uomo fa studare quindi è un ottimo quello che mi pare non mi piace la bici che è tenuta perché la bici fa degli sforzi già di per sé mettendola legata di dietro ho come l'impressione che questi sforzi tendono a romperla e quindi preferisco questi poi una volta che prendete l'abitudine perché io ho preso l'abitudine in un giorno non ci ho messo in un giorno neanche un paio d'ore per impararvi a stare in equilibrio sul lungo poi dopo niente da sé non vi credete che è una cosa così impossibile certo la prima volta magari cadete io sono accaduto cinque o sei volte ma niente di che credete che volate cadete normalissimi come quando state per metà strada magari non vi si sgancia il pedale cadete non è la velocità che vi fa andare oltre comunque non lo so questo e come funzionano io posso aumentare le marce la velocità come vedete con l'ecolibrio prendo la voraccia mi asciugo non so fare mai sono tranquillo poi faccio pure questi movimenti come vedete ho un buon ecolibrio adesso quindi non vi credete che una cosa è possibile a mio avviso tra questi e i lungi fissi meglio questi ecco con l'ecolibrio tranquillamente non succede niente ok ragazzi spero che questo altro video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al mio canale è gratis ciao e al prossimo video ok 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 ok